Abbiamo ascoltato dalla voce del doppiatore di Gesù di Nazareth, di Zeffirelli, le Beatitudini. Infatti oggi con il pastore avventista Giovanni Leonardi continueremo a parlare delle Beatitudini. Benvenuto Giovanni. Grazie, buongiorno. Allora, quindi da dove partiamo? Abbiamo fatto le prime Beatitudini, abbiamo ascoltato ora tutte. Qual è quella che prendiamo in considerazione quest'oggi? Io credo sempre che sia necessario vedere lo spirito d'insieme, il perché Gesù si è espresso con queste parole straordinarie, a chi si rivolgeva e a chi vorrebbe rivolgersi. Gesù qui sta esprimendo i principi di fondo del suo cuore, della sua visione del mondo, della realtà di Dio, della speranza cristiana. Gesù aveva davanti a sé migliaia di persone, di tutti i tipi. C'erano probabilmente dei farisei, dei saducei. Gran parte di quelle persone erano gente del popolo, contadini, pescatori, perché siamo in Galilea. C'erano dei soldati romani, forse che come o in incognito o apertamente sorvegliavano l'andamento dell'ordine pubblico. C'era di tutto lì. Gesù ha qualcosa da dire ad ognuno di loro, a cominciare dalle persone, dalle masse, che erano lì perché avevano una vita difficile, una vita amareggiata. erano gli ultimi della società, non solo economicamente, ma anche per il riconoscimento della loro dignità. E Gesù a loro dice, beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Come per dire, sappiate che non siete soli, che c'è un Padre celeste, che Padre è e vuole essere per voi, che vi conosce. Questo Dio che noi adoriamo e cerchiamo non è così alto da non potervi vedere, da non potervi sentire. E non è così autosufficiente da disinteressarsi di voi, perché è un Padre che ama, questo Dio che è amore. Vuole amare ognuno di voi e vuole consolarvi, sostenervi e rispondere positivamente ai vostri bisogni. Questo Padre non vi disprezza, non vi annulla, non vi mette da parte, ma condivide con voi la sua benedizione, il suo desiderio di bene per voi. Ecco, quando Gesù dice, beati i mansueti, perché erediteranno la terra, sta dicendo a queste persone non lasciatevi trascinare dalla rabbia. Perché quando le cose non vanno bene, siamo tutti, più o meno, io certamente lo sono, tentato di reagire con rabbia. Come dice una vecchia canzone siciliana cantata da Modugno, che si rivolge a Dio, a Cristo in cloce. Quello è questo brano? Quello che Cristo gli direbbe, ma che stai qui a lamentarti, prendi i bastoni, prendi il bastone e cominci a suonare a tutti. Ecco, questo non era il Cristo delle beatitudini, era un Cristo che comprendeva, ma che non indicava la stessa via del Cristo reale. Gesù dice, non prendete bastoni, ma siate mansueti. Non lasciatevi vincere dal male, ma vivete in mezzo al male con l'atteggiamento contrario. Perché l'unico modo per vincere il male è di non lasciare che si radichi in voi, continuate a essere buoni. Ma nello stesso tempo Gesù sta parlando agli altri, sta parlando a chi invece pensava insieme al popolo di Israele. C'erano gli zelotti, erano i rivoluzionari del loro tempo, insofferenti del dominio e della presenza dei romani, di questo esercito, di una potenza straniera che aveva occupato la loro terra e limitava la loro religiosità in qualche modo. Allora, il titolo del brano, perché tutti ci stiamo chiedendo qual è, è Malarazza. Il titolo del brano dice, prendi il bastone, non è in italiano il brano cantato. Sicolo è siciliano, no? Ecco, Gesù ha queste persone che vorrebbero riconquistare la loro libertà e la loro terra con gli attentati, oggi diremmo con le bombe, con le vie che conosciamo troppo tristemente. Gesù dice, beati i mansueti, essi erediteranno la terra. Essi avranno la loro libertà, non l'avranno i violenti. Forse il violento può riuscire a prendersi un pezzo di questa terra, ma il violento dovrà sempre lottare con gli altri violenti. Il violento non sarà mai libero, perché sarà sempre lui che vive dell'egoismo, della forza e della prepotenza o della rabbia circondato da altri che sono come lui. Si dovrà guardare alle spalle. Non avrà mai una casa che sia veramente la sua casa. Questa casa che Dio ci vuole dare è una casa dove non si vive gli uni contro gli altri, gli uni armati contro gli altri, con i bastoni contro gli altri, ma è dove si vive l'atteggiamento della mansuetudine. che poi, per spiegarmi, poco fa a microfoni spenti il nostro Emanuele si è chiesto «Ma sono solo i mansueti che erediteranno la terra?» Allora, prendendo spunto da questa battuta simpatica, bisogna capire lo spirito di queste beatitudini. Quando Gesù dice «Beati i mansueti perché erediteranno la terra», sta legando la mansuetudine alla terra perché aveva davanti a sé una realtà concreta di lotta armata per la terra. Però la terra non è che ce l'avranno solo i mansueti. Le varie affermazioni che qui vengono fatte bisogna vederle come manifestazione di un pacco complessivo, per cui la terra ce l'avranno non solo i mansueti, ma ce l'avranno i poveri in spirito, ce l'avranno quelli che ingiustamente sono afflitti, ce l'avranno quelli che sono affamati ed assetati di giustizia. Io un pochino come i cristiani pratichi della parola di Dio mi comprenderanno e come il frutto dello spirito, in qualche modo. Quando l'Apostolo Paolo contrappone le opere della carne, che sono l'invidia, la gelosia, la lotta e così via, al frutto dello spirito che è l'amore, la misericordia, la pazienza, la perseveranza. L'Apostolo Paolo giustamente parla delle opere della carne, cioè della nostra natura contaminata, al plurale, perché nel male ognuno può avere la sua specializzazione. Cioè un ladro non è detto che sia un assassino e un bugiardo non è detto che sia un ladro. Nel male ognuno può avere la sua specializzazione. Sfortunatamente ci sono quelle che poi riescono ad avere tutto. Non si fanno mancare niente. Nel bene non ci può essere specializzazione. Non è che tu puoi essere sincero ed essere disonesto poi. Chi vive nello spirito di Dio sarà contemporaneamente amorevole, sincero, fedele, perseverante, cerca gli altri. È il pacchetto comune della presenza di Dio che poi si manifesta in tanti modi senza poter essere separato. Le varie beatitudini di Gesù bisogna intenderle in questo senso. Cioè il mansueto deve essere anche quello che cerca la giustizia, quello che vive la sua vita con unità, che la vive. Pregola. No, no, stavo pensando che Gesù ci ricordava che ogni essere umano deve contenere questo bel pacchetto di qualità. quindi una persona così chiamata figliuolo di Dio che si sente di essere figliuolo di Dio deve contenere dentro se stesso, dentro la propria anima, la propria mente, il proprio spirito. Ecco, questo tipo di qualità che è tutto un insieme. La parola amore, a volte io mi dico Signore, si è squalificata questa parola, non si capisce più che cosa sia. Diventa molte volte egoismo l'amore, no? L'amore è un pacchetto all'interno del quale ci sono valori inestimabili. Quindi non è l'amore. Non è la cosa astratta. La cosa astratta. Ma è fatta di atti pratici. È piena di un contenuto di quello che stiamo dicendo, di quello che Gesù ci ha detto. Questo è l'amore. Certo. Ecco, per cui accanto a queste mansuete noi mettiamoci, come ho già detto ripetutamente, l'essere affamati e assetati di giustizia che non significa avere giustizia per me. Che sembra una contraposizione. No, se li mettiamo insieme invece no. Perché quella non è. La giustizia per me non è la vera giustizia. La giustizia è giustizia per tutti. Chi cerca la giustizia non cerca la sua giustizia. È proteso a ciò che è giusto per gli altri, per tutti. Per cui ognuna di queste benedizioni, di queste beatitudini che Gesù esprime è un appello perché possiamo essere consolati e confortati e sostenuti nel bene che c'è in noi. Ma è anche un appello forte al cambiamento perché se onestamente guardandoci dentro e guardando fuori alle nostre opere, alle nostre parole, non ritrovassimo una corrispondenza piena con queste parole, allora Gesù starebbe invitandoci a vivere un'esperienza di ravvedimento e di conversione. Queste parole sono parole estremamente rivoluzionarie e non sono facili da vivere. Io stavo pensando al fatto che oggi tutti quanti discuteremo del risultato dell'elezione che abbiamo avuto ieri. e mi chiedo se Gesù venisse oggi come uomo politico e proponesse un programma politico che partisse da questi principi, quanti voti avrebbe tra i cristiani? Certo, se Gesù venisse con il rosario in mano avrebbe il voto di tanti, ma non è il rosario che qualifica, anzi direi che il rosario squalifica il messaggio di Gesù, per come Gesù, perché Gesù è il Vangelo, è il Vangelo di Gesù, mentre il rosario è il rosario soprattutto della Madonna, no? E noi permettiamoci di essere evangelici qui, di essere avventisti. E quindi non è detto che una qualsiasi spiritualità o propaganda che si appella al nome di cristiano poi veramente corrisponda al programma che il vero Cristo avrebbe su questa terra. Un programma che ci dica la verità su noi stessi e sulla vita. Noi in genere votiamo per i partiti che ci promettono qualche cosa lasciandoci come siamo, migliorando magari le nostre situazioni economiche e così via, ma senza invitarci a preoccuparci di ciò che è giusto per gli altri. I politici, non tutti credo, perché ognuno ha la sua personalità, la sua comprensione, il politico di successo tenta di essere quello che ci dice di darci di più, che ci vuole dare di più. Mentre Cristo ci direbbe, guardate, che se volete venire dietro a me dovete prendere una croce, no? Io vi prometto la terra, però questa terra l'avrà chi avrà accettato di cambiare se stesso. Non di avere di più, ma di cambiare se stesso in nome di un valore, di una visione della realtà che è superiore a quello che io sono adesso. E Cristo mi dice, se tu vuoi un mondo migliore, devi diventare tu una persona migliore. Gesù non ci inganna, Gesù ci promette il cielo, ci promette una nuova terra di pace, di bene, ma ci dice che questo costa. A Gesù è costata la vita, è costata l'offesa. Gesù è stato non solo maltrattato fisicamente, ma è stato insultato, è stato deriso, proprio perché, come diceva lui, il mio regno non è di questo mondo. Come cristiani, che vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo comprendere che c'è qualcosa in più nel seguire Gesù che nel semplice volere qualche cosa. Gesù era un realista, Gesù era la verità, la via, la verità, la vita. Gesù sapeva esattamente chi erano i dominatori invisibili di questo mondo e ci ha avvisato di non cadere nella trappola dell'inganno. E quindi la nostra lotta, finché c'è questa esperienza umana, finché lui non tornerà, è una esistenza fatta di lotta, ma non contro l'uomo, l'uomo contro l'uomo, ma l'uomo contro potestà celesti, contro spiriti di demoni, contro veramente potenze invisibili. Lo dice lui e lo conferma anche l'Apostolo Paolo. Dico, allora, qual è l'arma migliore per poter lottare da vincitori e non da perdenti? Richiedere la presenza di Dio, la presenza di Gesù attraverso lo Spirito Santo. Perché il nostro combattimento, torno a ripetere le parole di Gesù, non è uomo contro uomo, assolutamente, ma è l'uomo contro queste potenze terribili. E senza di lui non siamo capaci di fare nulla. Credo che il combattimento più grande è quello con noi stessi, perché Gesù dice che dobbiamo morire noi stessi, quindi certo che ci costa. Cioè morire noi stessi, morire a quelle che sono le cose naturali, no? E invece accettare che nella nostra vita ci siano leggi del regno di Dio, non le leggi del regno umano, del regno terreno. Certamente noi non abbiamo nulla da comprare, cioè non si compra il regno dei cieli. Per questo è inutile cercare di avere quanti più soldi possibili. Già Giovanni Battista diceva ai soldati, accontentatevi della vostra paga. Non cercate di usare la vostra forza per estorcere disonestamente più di quello a cui avete diritto, no? Certo, la visione di Gesù che viene fuori dalle beatitudini è una visione di non violenza. Quindi hai ragione nel dire che la nostra lotta non è contro l'uomo, né contro gli altri, né contro gli avversari politici, né contro... E per questo ci invita a essere gentili, a essere mansueta, ad essere obiettivi anche nel dibattito politico. certamente Gesù non attirerebbe l'attenzione insultando gli altri, deformando la realtà degli altri, ma Gesù cercherebbe di creare le condizioni perché ci sia un dialogo onesto, un dialogo rispettoso, un dialogo vero, che non nasconde i problemi, come Gesù qui non li sta. Gesù sta affrontando direttamente i problemi della vita, solo che li vede con atteggiamenti diversi, perché ha davanti a sé, come dire, la differenza che c'è tra il politico e lo statista, tanto per mantenerci, no? Il politico può essere semplicemente quello che cerca di avere più voti per vincere l'elezione. Lo statista è quello che ha una visione, che propone agli altri. Ecco, Gesù è uno statista, ma è uno statista del regno di Dio. Amén. Quindi ci fermiamo così per ora. Alla prossima, allora.